Buon lunedì ragazzi, buon lunedì nero insomma ragazzi dopo la sconfitta col Milan, la crisi nera della Juventus dopo aver spulciato un po' la situazione, vi ho detto la mia in un video commento ieri mattina da 21 minuti poi ho fatto un breve video di sera in cui ragionavo un po' sulle avversarie, a che punto erano, dove stavamo noi in confronto a loro facendo dei paragoni perché comunque giochiamo la stessa competizione ovvero la Serie A quindi è giusto fare dei parallelismi oggi si parla di ritiro, ne ho parlato io ieri perché vi ho detto la società ha due strade in questo momento non può stare nel mezzo o sceglie di stare con l'allenatore o cambia l'allenatore ma come può decidere di stare con l'allenatore? beh ribalti lo spogliatoio internamente e dici ai ragazzi che compongono la rosa signori o mangiate questa minestra o saltate dalla finestra cioè il ritiro ci sono diversi strumenti l'importante è che la società faccia qualcosa anche se io personalmente sto più per l'esonero che non per il ritiro questa è la mia opinione però il ritiro è una cosa che ha tirato fuori la gazzetta dello sport con un articolo di Fabiana della Valle che a quanto pare insomma c'è la minaccia c'è il fantasma del ritiro alla continassa e già se ne parla su questo aspetto vi dirò la mia prima di iniziare però vi invito ovviamente a iscrivervi al canale e vi ringrazio per il sostegno perché il video di ieri il mio sfogo a cuore aperto 21 minuti di video che non è una roba che faccio di solito ha ottenuto tantissimi consensi da parte vostra condivisioni anche dal punto di vista del pensiero per cui credo di aver rappresentato gran parte della mia community visto che comunque a livello di dislike 2,3% veramente poca roba e quindi chi non è d'accordo ci sta che dica anche la sua apprezzo anche chi critica però credo di aver fatto quasi un video plebiscitario e poco divisivo rispetto ad altre volte che ci troviamo magari in situazioni simili e il mio pensiero può spaccare la community in realtà in questo caso credo che siamo tutti uniti sul fronte della crisi ecco tocchiamo bene questo aspetto del ritiro e scaricate la PuanFootball però perché potrebbero esserci tante novità da qui in avanti mi raccomando è gratis Android, iOS, avete gli highlights subito a fine partita quindi mi raccomando trovate il link sotto allora, allora il ritiro, il ritiro, il famoso ritiro strumento strainflazionato anche durante le crisi degli anni 90 nel periodo anche delle fantastiche sette sorelle le sette squadre che si contendevano sempre la serie A tuttavia io mi chiedo sempre se sia efficace come strumento però è già un segnale è un segnale dove la società indica chiaramente ai calciatori alla rosa che c'è sostegno e vicinanza nei confronti dell'allenatore e che viene messo più in discussione il lavoro dei singoli e non quello dell'allenatore è un segnale al di là del fatto che sia condivisibile o meno è una mossa comunque è un qualcosa è un po' di proattività da parte di una società che è stata silente fino ad oggi e oggi rischia di essere tagliata fuori da tutto banalmente per cui per cui alla vigilia di Maccabi Juventus perché andremo in Israele a giocare e giochiamo domani alle 18.45 siamo in questa situazione dove viene minacciato il ritiro in base all'esito della partita col Maccabi io ho diverse perplessità perché innanzitutto il ritiro deve essere uno strumento che trova comunque un po' un terreno fertile tra i calciatori che ammettono gli stessi calciatori di esserne in parte responsabili e quindi vogliono magari vivere quel ritiro non come una punizione ma come un mezzo per uscire da una situazione spinosa insieme all'allenatore l'allenatore d'altro canto in sede di ritiro deve dare un'iniezione di cose nuove di motivazioni di lavoro nuovo di prospettive perché altrimenti il rischio è di render vano questo strumento come mezzo per uscire dalla crisi cosa intendo dire? che durante il ritiro mi aspetto che Allegri porti una boccata d'aria nuova eventualmente che la Juventus si metta a disposizione e che dia il massimo per il tecnico e io dico apprezzo l'interventismo della società pur non condividendone la scelta nel senso che qualcosa bisognerà pur fare per rimanere fermi a braccia concerte preferisco il ritiro il massimo appoggio all'allenatore è un gran segnale alla rosa preferisco questo al nulla cosmico tuttavia io non sono convinto del fatto che Max Allegri sia in grado di trascinarci fuori dalla crisi comunque dopo un anno e mezzo di partite fatte insieme dove il problema prima era la rosa dove il problema prima era l'umidità il gomito che faceva contatto col piede come dice il buon Elio le papille gustative interrotte qualsiasi tipo di problema quest'anno è stato fatto un mercato importante dove comunque la Juventus al di là del fatto che abbia preso giocatori a zero ma preso giocatori anche di livello ha speso un po' io mi aspettavo altre risposte e vi ho detto che quest'anno non avrei dato alibi ma ragazzi guardate non mi aspettavo questo disastro questo disastro fin qua e io non vedo in Allegri anche quando lo sento parlare in conferenza stampa pre-post-gara una linea coerente una visione una prospettiva post partita sembra un pulcino bagnato un cane bastonato capita bene che io quando guardo quelle immagini mi convinco sempre più che la soluzione sia quella di esonerarlo e prendere un allenatore ma non un traghettatore un allenatore di medio periodo cioè mi fai questo finale di anno ti faccio due anni di contratto vieni qui mi ribalti la situazione però ogni scelta ha tante complicazioni ripeto il ritiro può non essere utile può non atticchire perché magari gli stessi giocatori dicono no il ritiro non la trovo una mossa corretta bla 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 vi ricordate quello che è successo a Napoli? tanti ragazzi sono andati poi in causa con lo stesso Napoli per la questione di ritiro tanti giocatori non hanno fatto il ritiro un ritiro imposto dalla società per cui si è arrivati in tribunale io mi auguro di non vedere una roba simile perché quella è una roba che sfascia tutto quindi se il ritiro ripeto è una cosa apprezzata da parte di tutti dove tutti si mettono in gioco è una cosa che può essere utile ma allo stesso tempo anche l'allenatore deve calarsi nella parte deve dare uno straccio di identità a questa squadra e il fatto è che questa roba se va male col Maccabi e se va bene col Maccabi i problemi sono risolti improvvisamente risolti ieri ritiro era la mossa giusta da fare post Milan Juve 2-0 tu vai a ritiro e ne esci la settimana successiva ma non come il ritiro dell'anno scorso che sono bastati due giorni di ritiro la Juve vince con lo Zenit San Pietroburgo e finita la crisi no perché poi i problemi l'anno scorso li abbiamo risolti no a parte un buon filotto di partite giocato a cavallo tra dicembre, gennaio e febbraio mi pare nient'altro dove ci siamo ritrovati poi a marzo vicini anche alla vetta poi lo sliding door di quel finale di stagione è stato Juve-Inter 0-1 con gol di Cialanoglu su rigore ricordo molto bene e lì capita bene che è finita la nostra stagione però quel ritiro là è una cosa a mio parere insensata che non dà nulla non dà alcun valore aggiunto sia alla squadra ma anche all'allenatore che con superbia pensa di aver superato tutte le difficoltà in soli due giorni e così non è quindi questo ritiro qua per come viene raccontato dai media e come viene eventualmente ragionato in casa Juve mi sembra una mossa inefficace il ritiro ripeto andava in posto alla squadra dal post Milan-Juve alla prossima settimana due risultati utili e bisognava andare avanti punto senza troppi ragionamenti questo bisognava fare questo ritiro qua mi sembra una roba fatta all'acqua di Josef molto francamente poi ripeto deve esserci l'accordo anche da parte dei calciatori perché se i giocatori se con i giocatori si arriva allo scontro è un casino diventa veramente una cosa molto complicata lato esonero lato esonero dell'allenatore anche qua io credo che il problema anche della Juve ve l'ho detto già in altri video sia una sorta di idea condivisa da parte della dirigenza che non esiste in questo momento credo che la dirigenza stessa sia divisa sul futuro sul destino sul valutare anche il lavoro di Max Allegri credo che il presidente sia dalla parte di Max credo che Nedved non sia da quella parte ecco mia sensazione mia percezione sia chiaro ma ho come la sensazione che negli ultimi anni le scelte tecniche sul piano guida tecnica abbiano portato a delle divisioni interne tra la dirigenza io credo che invece se bisogna affrontare un cambio di rotta importante cambiando il condottiero quel condottiero deve avere la fiducia piena di tutta la dirigenza e non bisogna avere strasci che divisioni interne perché poi questo si riflette anche immediatamente sulla squadra e certe cose si percepiscono ragazzi perché pensate che Nedved non parli con i giocatori e magari esponga il suo malcontento qualora lo avesse ma certo e quindi questa divisione secondo me crea problemi anche ai piani bassi e bisogna avere una sorta di unità di intenti importante dalla dirigenza scegliere in maniera convinta di cambiare allenatore prenderne uno che convinca tutti quanti scommettere su quello allenatore dargli tutto il massimo appoggio tutta la massima competenza perché questo è un altro aspetto altrimenti ragazzi è tutto vano questo bisognerebbe fare ci sono due vie punto e ve le sto spiegando proprio in questo momento con le difficoltà con i pro e con i contro io ripeto il ritiro funziona dal momento in cui c'è disponibilità da parte di tutti di fare autocritica e migliorare se il ritiro viene visto come una punizione il problema è che possono nascere degli strascichi pesanti dopo che si riflettono in prestazioni negative in malcontento nello spogliatoio sono equilibri molto delicati ragazzi non so se ci siete mai stati in uno spogliatoio ma se avete banalmente anche fatto un po' di dirigenza in una squadra anche dilettantistica perché le dinamiche che si innescano ingaggia a parte ovviamente sono molto simili per cui il ritiro ripeto può essere una mossa interessante dal momento in cui c'è piena disponibilità da parte di tutti e c'è la voglia dell'allenatore di cambiare tanto e di trasmettere tanto io ricordo per esempio che in situazioni particolarmente spinose anche il Milan di Sacchi non è famosa stasena dove Berlusconi va e parla alla squadra e dice vi caccio tutti quanti piuttosto ma sa che rimane e quello in quel momento c'era un rigetto importante nel confronto di Sacchi poi Sacchi ha attichito molto molto bene e da lì ha innescato insomma un bel po' di vittorie e delle belle stagioni però allenatori diversi momenti storici diversi quindi capita bene che la situazione è un pelo spinosa lato di tiro è un po' delicata bisogna affrontare da quei guanti in maniera chirurgica bisogna convincere tutti che stiamo facendo caccare e la responsabilità non è solo dell'allenatore ma i giocatori devono anche convincersi che è anche la loro la responsabilità perché ve lo dico anch'io non è che tutte le colpe sono di Allegri però togliere Allegri in questo momento può essere quello shock di identità di cui la Juventus ha bisogno di ritrovare immediatamente con un altro allenatore ecco quindi c'è uno shock nello spogliatoio che viene assorbito con una nuova figura che fa da condottiero che dà un'identità di gioco a questa squadra che dà delle sicurezze che dà delle certezze che dà dei contenuti tattici che ora non abbiamo e quindi questo è però ripeto per come c'è stato raccontato dai quotidiani io non sono molto convinto di questa presa di posizione della Juve ripeto la modalità in cui la stanno propinando non mi piace il Maccabi i ragazzi sono di doppio lavoristi quelli là diciamoci la verità è una squadra cioè noi siamo fragili e rischiamo di andare anche lì a perdere ma quella partita non può essere il metro per definire se la Juve è uscita o meno dalla crisi la Juve al di là di una vittoria che può arrivare anche facile in Israele il rischio è che comunque dalla crisi non esca facilmente che sia in un casino nero e che tornino sempre vistosi i problemi e quindi quella minaccia del ritiro è una roba che è andata a vuoto il ritiro lo fai punto e basta senza proclamarlo senza mettere delle condizioni lo si fa perché c'è una consapevolezza dei problemi la consapevolezza dei problemi è il primo passo per la risoluzione dei problemi questo è ripeto fosse per me me ne frego dei soldi l'esonero e cambio totalmente l'ambiente in panchina cambio completamente l'ambiente nella rosa do alla gente ai miei calciatori una nuova guida da seguire con serietà con tanto di discorso all'inizio con tanto di supporto durante le difficoltà però questa guida deve essere condivisa perché abbiamo fatto una marea di puttanate nelle scelte ovviamente dei tecnici da Sarri che non convinceva Agnelli poi abbiamo preso Pirlo che non convinceva Nedved poi abbiamo preso Allegri che non convinceva Nedved e tutte queste divisioni ho capito che ad Agnelli non piacciono gli yes men quelli che dicono si va tutto bene però in queste scelte bisogna andare d'amore d'accordo perché poi ci si scanna su scelte programmatiche e altre cose però su queste cose bisogna essere completamente uniti come dirigenza altrimenti il rischio è quello di incrinare i rapporti interni tra dirigenti ma allo stesso tempo che quel malumore quel malcontento dirigenziale si rifletta inevitabilmente sui risultati della squadra e sulla squadra mia modesta opinione da esterno che guarda e percepisce delle cose e cerca di raccontarvele a suo modo senza avere la presunzione di insegnare nulla né di propinarvele come verità assoluta io la penso così per i calciatori voi mi dite i calciatori non sanno cosa fare i calciatori c'è una povertà tecnica la povertà tecnica c'è dal momento in cui c'è l'improvvisazione e nell'improvvisazione se tu non dai una guida uno straccio uno spartito cioè io vi dico una cosa se metti i più forti in assoluto metti il batterista più bravo del mondo metti il chitarrista più bravo del mondo metti il bassista più bravo del mondo metti la voce più brava del mondo metti che cacchio manca il tastierista più bravo del mondo quello gli dai una canzone mi dici più o meno che quello c'è ragazzi fate una roba una canzone una cover che sapete fare tutti quanti e quelli bene o male si incastrano subito trovarla a quadri immediatamente vanno però se non hai il miglior chitarrista del mondo se è un chitarrista buono ma niente di che se hai un tastierista così così se hai un batterista magari anche forte e poi c'è quell'altro che non è bravissimo o dai uno spartito quel che ne esce è un disastro questo è noi non abbiamo i più forti al mondo abbiamo gente forte ma abbiamo anche gente normale che ha e questa squadra per far funzionare bene per fare un bel concerto abbiamo bisogno dello spartitino se Allegri non ci dà lo spartitino siamo nella merda ed è per questo che senza spartito emergono le difficoltà del chitarrista emergono di questo il parallelismo che vi faccio noi siamo questa roba qua Locatelli non è scarso Locatelli è un giocatore che va guidato perché tecnicamente ha le capacità ma se gli si dice in campo che cosa bisogna fare senza che una volta giochi a tre poi giochi a due ma poi giochi qua ma poi giochi là giochi in culonia vai a coprire là vai a coprire qui confusione e lui poverino si smarrisce perché i giocatori vanno anche formati e con l'esperienza che assimilano magari anche un certo grado di indipendenza tattica in campo è il saper si mettere in campo e Allegri deve se c'è questa storia del ritiro e c'è il massimo appoggio della società rimboccarsi le maniche calarsi nella parte del vi do uno straccio di identità perché in passato lo ha fatto e va e la va e ripeto non è la soluzione idonea per me però se la società vede questo lui deve fare questo perché alla Juventus manca tutto manca un piano gara manca una struttura manca un'idea di gioco manca tutto e non abbiamo gente indipendente tatticamente poca roba questo è anche qua 18 minuti ve li ho propinati però è sempre lunedì di merda condividiamolo ce l'ho alla grande con questo video e poi ascolterò oggi con grande interesse la conferenza stampa l'ascolto con grande interesse e poi tiriamo le somme va cerchiamo di capire un po' che cosa dirà come reagirà alla crisi vediamo che cosa tirano fuori io voglio domande picantine stavolta da parte dei giornalisti e non roba che alliscia il pelo che cerca di ammorbidire un po' la crisi no perché siamo nella cacca più totale perché a ottobre rischiamo di essere fuori da tutto banalmente ad oggi siamo credo la settima ottava forza del campionato ma è giusto che così la classifica non mente attualmente non mente ciao belli buona giornata e buon lavoro a tutti quanti voi